Presidente, grazie. Allora concordo con il collega De Priamo per il principio che l'ha spinto a presentare questo emendamento, ma devo ricordare che laddove vengono ricordati i valori costituzionali, se in un testo si aggiunge, si specifica anche il richiamo ai valori dei diritti umani è come se il valore costituzionale, la Costituzione non li comprendesse, viceversa questi sono concetti che già sono sussunti nella nostra Costituzione, nell'articolo 2 e nell'articolo 3, quindi sembrano veramente ultronei e solo per questo dichiaro la votazione di astensione. Grazie.